Anche quest'anno a Vallalta dal signor Anselmo Breda che ogni anno realizza il presepe, anzi più di un presepe come vediamo proprio qui alle sue spalle. Ma soprattutto la trazione e il presepe è tutto in movimento. Quanti movimenti ci sono all'interno di questo presepe? Circa uno ventino, venti, ventidue. Da quanti anni ha questa passione? Ventisette anni che realizza questo presepe, ventisette anni per il pubblico, però ho iniziato da piccolo a costruire il presepe. E viene tantissima gente ogni anno? Moltissima gente, moltissima gente tutti gli anni. È una soddisfazione per lei vedere così tante persone? Mi ha dato molta soddisfazione, è per questo che sono andato avanti fino a questo tempo perché non so come sarà. No, comunque mi ha dato molta soddisfazione la gente. Quanto ci mette a realizzare questo presepe? Io inizio sempre all'inizio di settembre, o anche in agosto a costruire qualcosa. Però un paio di mesi io impiego a fare il mio presepe. Non tutti i giorni, però quasi tutti i giorni, qualche ora al giorno io impiego sempre. Ci vuole molta pazienza? Tantissima, tantissima pazienza ci vuole e tanta passione altrimenti non si fanno queste cose. Vorrei ringraziare voi di Antenna 2 che per molti anni siete venuti a farmi visita con tanto piacere e con tanta anche soddisfazione per me personale. e ringrazio anche il numeroso pubblico che da 27 anni vengono a visitare il mio presepe. Quest'anno però mi dispiace, è l'ultimo anno che lo faccio per motivi di salute più che altro. Buon anno e grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.